Rubano in discoteca, arrestati tre ragazzi, sono stati sorpresi dalla polizia alla discoteca Cucù di Antraccoli. Nuovo ospedale, inaugurazione fissata, la data ufficiosa è il 26 ottobre 2013, se ne è parlato nel corso della conferenza dei servizi dell'ASL numero 2. Caccia al cinghiale lungo il fiume, lunedì e martedì via Libera della provincia all'abbattimento selettivo dei cinghiali lungo il Serchio. Il computer acceso dal vento, all'istituto tecnico Galilei inaugurato un micro impianto eolico che alimenta una postazione informatica. Lo sport lucchese al ballo del San Vito, trasferta insidiosa per i rossoneri che cercano a Cosenza il quarto risultato utile consecutivo, debutto di Crocetti in attacco al fianco di Marotta. Via Reggio Locerina, tutto o niente, partita difficilissima per i bianconeri che ospitano la capolista, seguita da circa 500 tifosi, due dubbi per Cosenza in difesa e a centrocampo.